Che hai fatto? Non c'è morto. Voi vedi come ne è uscita? Ti prego, fai qualcosa. Peppina? Peppi, e va bene, vuol dire che ti sposerai. Che felice! A chi mi sposa? Sposto da Donnellani, amore. E va bene, sono stato sfortunato in amore, sarò fortunato in altro. Io ti faccio il compare, sei contento? Sì, ma lo sarei ancora di più se avessi il perdono ed un applauso da tutti questi simpaticissimi signori.